Carissimi, come state? Io abbastanza bene, vi ringrazio per l'affetto e per la stima. Meno male che siamo diversi dal tempo, perché in questi giorni, lo vedete anche alle mie spalle, almeno qui da me, il tempo non è dei migliori. Di cosa voglio parlarvi? Da pochissimi giorni, esattamente dall'8 dicembre, è uscito l'ebook Aiutami a Credere. Questo ebook, quindi versione digitale, perché alcuni mi avete scritto, lo posso trovare in libreria, no, è solo versione digitale, cioè che si può scaricare e leggere. Vi arriva nella vostra mail, voi lo tenete per sempre e lo potete leggere quando volete. È semplice acquistarlo. Si va sul sito donfrancescocristofaro.it, quindi www.donfrancescocristofaro.it, si entra nella sezione ebook, si clicca su compra e poi si segue i due passaggi successivi. È molto semplice, poi vi arriverà automaticamente, subito, dopo un minuto, la mail con il link dell'ebook. Grazie a tutti coloro che l'hanno già fatto, perché praticamente essendo sul mio sito mi arrivano anche i nomi, no, perché arrivano le vostre mail. Devo dire, con curiosità, che è maggiore il pubblico maschile. Cioè, l'80% di coloro che hanno scaricato il libro, sono già tanti, sono uomini. Grazie, sono felice di questo. E allora, vi aspetto se volete. È una storia bellissima che vede come protagonisti due ragazzi, Marco e Andrea. Marco purtroppo perde la fede e è adirato con il Signore. Andrea lo aiuterà a ritrovare il Signore e la fede. E questa storia terminerà proprio la notte di Natale, con una preghiera bellissima da parte di Marco e soprattutto con un miracolo. Ciao a tutti, non vi svelo altro. Ciao!